Nell'anno di Capitale della Cultura, anche Pesaro Challenge alza l'asticella giocando d'anticipo nella valorizzazione della Kermes, che da quattro anni esalta la pratica della cultura sportiva, soprattutto per i più giovani. Pesaro Challenge, che tornerà nella zona mare di Pesaro per tre giorni, il 30, 31 agosto e 1 settembre, ma che con quattro mesi d'anticipo ha già presentato in comune alcune novità. È una manifestazione sportiva che vuole essere una vetrina dello sport per la promozione e la dimostrazione dello sport in un periodo che anticipa ovviamente le iscrizioni per l'anno sportivo 2024-2025. Questo lavoro è un lavoro in rete perché mette in rete tante società, tante realtà sportive, discipline diverse, ma non solo, anche gli sponsor degli espositori che credono nello sport come stile di vita e al benessere che genera ovviamente lo sport e quindi ci supportano per fare questa iniziativa. Fra le novità di rilievo, l'arrivo della Challenge Card. Abbiamo voluto anticipare i tempi rispetto ai tempi tradizionali per presentare l'evento, proprio per dare possibilità alle società sportive di lavorare sull'obiettivo che è quello di aumentare i contatti durante la manifestazione. La Challenge Card è l'idea con la quale raccogliere contatti per poter poi utilizzarli al momento in cui si torna a fare sport in palestra. L'obiettivo è stimolare lo sport, dare la possibilità agli sponsor di avere la massima visibilità e soprattutto a tutti i cittadini, a tutti i visitatori della manifestazione di provare tante discipline sportive in quei tre giorni che saranno tre giorni di Open Day a cielo aperto. La Challenge Card servirà per girare nelle varie postazioni, raccogliere ovviamente le prove fatte e alla fine sarà premiata con un gadget, un piccolo ricordo dell'evento per ricordarsi che mettersi in gioco molte volte premia. Poi sarà spendibile anche in attività commerciali che stanno contattando per aderire a questa nuova iniziativa.